La ricetta per superare la crisi non c'è, ma un ingrediente è sicuramente questo, passare dall'economia dell'esperienza tipica delle imprese familiari all'economia della conoscenza, quindi per esempio lavorando in simbiosi con le università. Ne è convinto Ferdinando Azzariti, il presidente del Salone di Impresa, che quest'anno è arrivato all'ottava edizione. Estendere il modello di tipo organizzativo, non essere più chiusi ma essere aperti, essere più legati all'internazionalizzazione che soltanto allo stare in impresa e dall'altra parte anche favorire dei cambiamenti che possono intervenire attraverso un inserimento di nuovi manager oppure una ripartizione delle responsabilità tra la famiglia assolutamente diversa da quella di oggi. Titolo delle due giorni che si terrà oggi e domani al centro Candiani di Mestre, connessioni, la nuova forma della competitività dell'impresa, che prende spunto addirittura dalla fisica e dalla famosa teoria delle reti. Oggi è indispensabile fare rete, è indispensabile il sistema di imprese per essere sempre più competitivi nel mercato e superare il momento difficile di crisi. Insomma, in tempi come questi di riduzione dei consumi e allargamento dei mercati, l'innovazione nei prodotti e nei processi non è più sufficiente. A spiegarlo durante le tavole rotonde saranno anche le piccole o grandi imprese come la Diesel, Electrolux o la Fracasso, che porteranno la propria testimonianza e stimoleranno il dibattito sugli scenari futuri. Proponiamo dei nuovi ruoli, o come cambiano i vecchi ruoli, come il venditore, come il responsabile della logistica, o come stanno intervenendo invece sul mercato dei nuovi ruoli, come il creatore di un portale di portali, oppure il responsabile di uno smart brand dell'Electrolux. E quindi come un'impresa grande come l'Electrolux Zanussi, io la chiamo ancora Zanussi, si sta evolvendo sul mercato.